Ciao ragazzi, sono Paolo del canale di GGD, oggi siamo in diretta da Koi Coffee Comics a Trevigno, la nostra fumetteria praticamente di fiducia, dove ogni sabato facciamo local. Un ragazzo che si spoglia. E niente, cosa succede oggi? Abbiamo comprato un bel box della nuova espansione, eccolo qua, rabbia e fantasma. Cosa aspettiamo? Apriamolo tutti insieme. Qui con me abbiamo il buon Nico. Ragazzi sto registrando, mi vedrete dopo. E Super Roby. Super Roby che non possiamo inquadrarlo perché è ricercato. Ovviamente non l'ho comprato da Wishbest. Esatto, questo dobbiamo precisarlo perché Paolo è famoso per le pattonate. Allora ragazzi, io sfiderò Paolo in questo video, 12 bustine lui, 12 bustine io. Se sbusto Alfa, sono stati 40 euro meglio spesi della mia vita. Destra o sinistra? Come vuoi tu. Io faccio Salvini e vado a destra. Fai Salvini e vado a destra, vai. Faccio io Prodi, vai. Minchia ragazzi, politica. È per Nico. Politica ragazzi. Vediamo se riesco a fare come i veri. Minchia, va a che classe, va a che classe. Andiamo subito con lo spacchettamento professionale. Minchia, se non fosse per Geno che ce l'ha fatto pagare 2 euro questo box. Ma sì. Ah, è già prismatica, buono raga, ho già pagato il box. Io devo vedere dal video raga. Cazzola, non vedo. Una merda, una bella merda. Se è una merda, è una merda. Vabbè dai, possono ancora uscire le ultra raga. Stiamo calmi. Cos'è? Cos'è? Una bella merda, grazie a Dio, grazie a Dio. Mamma mia. Si, non sono come... Si sfaldano facili ste puttane. Ho visto qualcosa? No. C'è del secret. Cos'è? Uh, buono, buono. Quanto sta sta merda? 30 adesso in prevendita, più o meno? E in più c'è un bel bacchetto dei minchioni. Oh raga. Buona nuova trappola. Vabbè, meglio che sbustare le merde del cazzo, come si chiamano lì? Il drago di ribellione di merda che c'è in copertina. Lo sbustiamo adesso, va bene. Adesso lo sbusto, sì. Adesso lo sbusti. Adesso pesa, eh, questa pesa. Ho sentito che pesa. Cazzo Dio raga, già una secret, così. Mi sono cagato in mano quando ho visto Nero. Niente, niente. Mi sono cagato in mano. Dai, dai, però... No, il secret... Vabbè, le diamo sta merda un attimo, ma il secret è forte, ma... Con riserva, diciamo. Ma sì, va bene. Rai tratto. Grazie a Dio. No, ogni volta che sbusti, mamma mia. È sempre un piacere. Non vi facciamo vedere le super e le altre puttanate perché... Vaffanculo. E Francesco Delicari che scrive. Bastardo. M'ha fatto anche mettere il titolo avanti all'obiettivo. Cos'è, cos'è? Che... Ah, guarda. Brigant, drago col... Ah, no, ok. Si gioca dove mia mamma lavora. Sì, esatto. In un bordello. Che schifo. Questo scopa... Mamma mia. Mamma mia, raga. Vabbè, mettila qua che è un ultra di merda. Questa me la sento. Io spero che non siano tutte lì le secret perché almeno dall'altra colonna voglio sbustare qualcosa anch'io. Ah, vedo qualcosa, raga, io. Raga, eh, oddio, oddio, no, oddio. Ma perché mi cago in mano? Perché mi cago in mano? Poteva essere un bel Zeus invece è un long long. Eh sì, è data escape. Mazzo dei richioni. Infatti immagina nel nostro team che lo monta quel mazzo di merda. Big long long. Mamma mia. No, non fammi cagare addosso, Paolo, dai. Paolo, Paolo, Paolo. C'era del vibranio, invece no. C'era del vibranio. Che cazzo è? È la super? Sì, è la super sempre lao lao. Guardalo, 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 guarda Francesco, è qui, figa, è qui. Cazzo Dio. È la sua presenza virtuale. Sì, veramente, quante bustine? Quattro bustine, dai, dai. Presenza virtuale. Cos'è, cos'è? Oh, cos'è? Bandarock. Porco Dio, madonna Dio. Sì, scusate se per questo video non stiamo usando i mezzi professionali, ma appunto io non ho pagato l'affitto di questo mese. Esatto. E quindi è da tre giorni che dormiamo. Eh sì, è da tre giorni che dormiamo praticamente in strada. Nei ponti. Cos'è, cos'è? Ancora Rai Draco. Cazzo, cazzo. No, ma meglio, meglio, guarda, meglio. Sono contento. Sono contento che stanno uscendo le merde. Quale tra le due? Quale tra le due? Questo. Dai. Adesso usciamo senza pagare? Lasciamo qua Roby, tipo. Oh no. Ah. Dai, Paolo, mi cago a... Non fare così, mi cago addosso quando vedo le trappole strane. Ma sì, è la trappola che spacca due e che piace ai ritardati. Vai. Questa me la sento. No, dimmi che non la sento. Non farla sentire. Vibra, vibra, vibra. Ah, ah. È secret? No. Cosa cazzo è? Bestia miuta. Ah, va bene, va bene, va bene, è ultra, giusto? Fammi cagare in mano. Mettila qua, mettila qua. Mamma mia, Dio. Ecco, abbiamo cambiato... Ah, raga, ciao. Abbiamo cambiato il soggetto. E sono io. Allora, qua dentro dovrebbero esserci tre ultra e una secret, in teoria. A meno che il box sia fallato e questo vuol dire che ha una merda. Ti faccio veloce, raga. Sì, sì. Ti prendo un cazzo. Merda. Indovinate quale altro personaggio del team Montero sta mia, sta minchia? Esatto, Francesco. Mi sono cagato in mano. Nelfi gioiosi, pupazzini colosini. Ragazzi, esce una secret di merda, perdonatemi. È colpa mia. Ho già visto un'altra... No. Guarda, Dio. Guarda, guarda. Tutte per frate. Tutte. Guarda, guarda, se esce una secret di merda, Francesco. Vengo a casa tua e te la compri subito. Ultra dei Tribrigade. La mettiamo qua, dai. Sì, 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 mettiamo lì. Quindi mancano... Quanto cazzo manca? Un ultra e una secret. Sì, metti anche sta merda qui che va bene. Mia madre che si prostituisce, va bene? Ragazzi, questo vi devo dire. Così che funziona. La vita. Mia madre che si prostituisce. Secret. Secret? È warning point. Secret? Sì. Warning point. Warning point. Tutto il box per Lorenzo, questo. Eccola qua. ci stava. Devono andare molto peggio. L'ultima ultra che cazzo sarà? Va bene. Va bene. Ultra? Mio zio, quando va in bicicletta. È lui. Proprio lui. Rip. Non commento perché ormai parlare male di Francesco è diventato noioso. Un commento perché ormai insultare Francesco che approccia è diventato noioso. Dai, 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 dai. Prismatica. Dai un cazzo. E vabbè, mia madre. Ragazzi, allora, il box è andato discretamente. Liberai un 6, ma Francesco l'ha rovinato, quindi diamo un 4. Quindi non è neanche male. Cioè, nel senso, a parte... Cioè, oddio, si gioca, può essere utile, non so quanto sta, la vendiamo. Ci siamo pagati forse a metà box, non lo so. Comunque, dai GGD è tutto. Ringraziamo ancora una volta Geno per questo box regalato. Questo è quello che crediamo noi. E ringraziamo ancora una volta la COI che ci ha ospitato in questa domenica uggiosa. E... Non piove. Figura di merda, Paolo, però. E niente, ragazzi, dai GGD da Nico. Vi ringraziamo per la visione. Buon primo dei morti. Buon